Buongiorno ragazzi, eccoci qua, ovviamente in coda, 10-11 chilometri a far andare verso Genova Questo qua taglia beatamente la strada, ma va bene così, all'altezza di Varaz Sarà un lungo viaggio Oggi siamo tra Santa Margherita e Rigure e Portofino Ora abbiamo appena trovato parcheggio per la macchina e ora andiamo a lasciare il zaino in camera Abbiamo trovato un bed and breakfast che è un po' particolare, nel senso che non ci si arriva direttamente con la macchina Ma bisogna fare 10 minuti, un quarto d'ora di camminata in mezzo ai boschi E ora iniziamo Grazie a tutti Buongiorno ragazzi, oggi siamo a Paraggi, una metà strada tra Santa Margherita e Ligure e Portofino Ora colazione e poi dopo scendiamo giù, lasciamolo il bagaglio in macchina e poi andiamo a fare un giro a Portofino Andiamo a recuperare i bagagli che ci stanno arrivando giù dalla teliferica Anzi, sono già arrivati Bagagli lasciati in macchina e ora passeggiata fino a Portofino Sono in circa 2-3 chilometri qua da Paraggi e ora tutto sul lungomare Come l'hanno detto, non è propriamente sul mare Il meteo è coperto, un po' il sole, un po' no Soprattutto però c'è un affamicidiale Quindi pur essendo metà settembre stiamo sudando da far paura Alle 5 a terra fare il trekking era giugno ma si stava meglio sinceramente A presto, un po' no Siamo in Piazzetta, porto fuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.